Situazione generale, una discesa d'aria fredda su Francia e Spagna determinerà un forte spinta dell'alta pressione africana verso il centro-nord dell'Italia. Sul Vicentino quindi ci sono da attendere, giornate stabili con temperature in ulteriore aumento. Sabato 19 giugno, solleggiato in pianura per tutta la giornata, sui versanti sud invece delle prealpi nella tarda mattinata si avranno nuvole basse e nebbie, colonina del mercurio in aumento con punte di 33 gradi. Domenica 20 giugno, cielo sereno la mattina su tutto il Vicentino, nella seconda parte della giornata nuvi basse addossate su monti senza precipitazioni. L'acqua sarà in aumento, avremo picchi di 35-36 gradi su medio-basso Vicentino, zero termico oltre i 4.500 metri, probabilmente sarà una delle giornate più calde del mese. Lunedì 21 giugno da sereno a poco nuvoloso su tutto il Vicentino, sensazione di disagio per il forte caldofoso, temperature stabili con valore per oltre la media del periodo. La tendenza nel lungo termine, per metà settimana avremo un primo calo termico con possibili temporali sull'alto Vicentino. Nel prossimo bollettino verremo meglio l'evolversi della situazione.